buongiorno allora vi faccio vedere una breve panoramica poi andremo a parlare Giancarlo mi ha mandato una mail Giancarlo è un audiofilo che ha 60 anni e ha avuto Mark Levinson McIntosh insomma poi vi andrò a leggere la mail che ha scritto e il sistema che lui si è fatto si è comprato l'ha trovato usato poi ne andremo a parlare intanto vi faccio vedere questo breve filmato tolgo l'audio che è meglio vedete sub 12 15 18 pollici test 10 12 15 pollici vediamo la etx 35 p qui adesso la vedremo con il sub etx 18 sp tanto dura un minuto questo filmato andiamo a vedere queste entrevie col sotto il sub etx 18 sp poi guardiamo il 15 il 12 questa serie etx questa qui ecco qua guardate questa è la testa 15 pollici etx quella che abbiamo visto prima è un tre vie etx 35 p queste due vie diffusori a tromba 10 pollici questo col 12 pollici sotto guardate che vedete in alto la etx 35 più la tre vie più lunga vedete queste varie configurazioni varie configurazioni vi voglio far vedere questo è il buffer che monta la etx 35 p andiamo a vedere pure i componenti e questo è il suo buffer andiamo a vedere questo è il driver guardate che dimensioni questo è il suo buffer andiamo a vedere il midrange della etx 35 p diffusore a tre vie eccolo qua adesso vi mostro l'impiantino che si è comprato il nostro amico praticamente queste sono le teste zx a 1 vedete piccoline ma molto performanti andiamo a vedere allora appunto questa è la serie zx a 1 guardate qua costano 550 euro l'una è un 8 pollici due vie ecco qua abbinate al z eccolo qua zx a 1 vedete un sub da 12 pollici vedete questo qua mi sposto come adesso vi faccio vedere un attimino come stavo lavorando col cavalletto perché il signor cafu come vedete vedete cafu come sta e cafu ecco cafu vedi come mi fa lavorare va bene ok ci andiamo a parlare un attimino scusate che mi metto meglio speriamo che mi vedete buongiorno a tutti buongiorno a tutti intanto vi leggo la mail che questo audiofilo ha 60 anni che mi ha scritto e mi dice buonasera sante scusa eh se ti do del tu qui mi stanno chiamando se ho del tu sono giancarlo di frosinone ti ho chiesto un consiglio per l'acquisto di un benedetto benedetto impianto benedetto impianto benedetto impianto via elettro os da te insomma insomma elencato insomma qui mi dice scusate che qui mi stanno chiamando mi stanno disturbando io c'ho una fortuna allora ti ho chiesto un consiglio per l'acquisto di un impianto via elettro os da te benedetto ho acquistato i seguenti pezzi casse e v z x a 1 con woofer da 8 pollici attive mi scrive eccezionali più un sub sempre z x a 1 da 12 pollici super eccezionale perché lo si può regolare con il volume il taglio di frequenza di frequenze che dopo varie prove ho preferito un taglio a 120 s perché fa lavorare nelle migliori condizioni le teste il tutto lo faccio funzionare tramite un dac della smsl di 0 100 con cavi bilanciati e come sorgente uso un computer insieme a un cd 100 della philips eccezionale con questo impianto premetto che sono un appassionato di musica ho 60 anni e come tanti appassionati di iphone e la mia vita di audiofilo ho provato di tutto sempre nella ricerca di un suono live reale come come lo ascolto nei concerti tipo fusion jazz rock hard rock e pop ascolto un po di tutto allora vengo al punto ma prima voglio ringraziarti perché grazie ai tuoi video ai tuoi consigli ho assemblato questo impianto che cosa devo dire spettacolare dopo 40 50 anni di ascolto e migliaia di euro spesi è la prima volta che a casa riesca ad ascoltare la musica come ho sempre sognato live nitida vera come se fossi davanti al concerto uno spettacolo l'emozione che provo quando sento una staccata di billy combam e pari e pari al vivo che ho visto tre volte la chitarra di page dei led zeppelin è lì come mai sentita e per non parlare della batteria di bonham la voce di battisti così naturale e bella presente con tutte le sue sfumature mai percepite e il tutto con una naturalezza impressionante è imbarazzante dopo tutti questi anni e dopo aver provato di tutto ti ringrazio ancora e tanti soldi nessun impianto anche se a volte con le combinazioni giuste ti ringrazio ancora e spero che pubblichi questa mia recensione perché hai tanti audiofili come me che dopo tanti anni ancora non riescono a trovare un impianto che li soddisfi appieno dico provate provate ne avete spesi tanti di soldi come me io ho speso comprando il tutto usato a 1100 euro ed è cambiato tutto ti saluto sante quando vuoi per ringraziarti ti invito in ciociaria a casa a casa mia per farti assaggiare le nostre pietanze e ti posso garantire che sono buone garantito alberto sordi ci chiamava caciottari ma anche lui aveva sangue social quando vuoi chiamati ascoltiamo musica e caciotta insomma questo che l'impiantino il sistema che si è comprato giancarlo è il sistemino che costa nuovo 550 euro sono 1100 le due piccoline da 8 pollici e dovrebbe costare 700 euro credo il sub da 12 pollici lui ha trovato questo sistema praticamente usato a 1100 euro 1100 euro ci vogliamo fare una risata con 1100 euro che ci copriamo avete visto lui che ha avuto il precedente sono decenni che ascoltano impianti insomma uno che scrive una cosa del genere o è matto oppure è vero è vera sta cosa io penso che si vedete che non ce n'è uno non ce n'è uno che non ce n'è uno che dice l'esatto contrario stiamo parlando del sistemino piccolino ma che c'è tutto non gli facca niente poi per tanto io ringrazio giancarlo sono felice poi gli do pure il consiglio lui sta sentendo c'è un ambiente di 15 20 metri quadri che lui dice piccolino magari averlo 15 20 metri quadri io non ce l'ho per esempio quindi perché io ho ho un 3 metri per 5 per 5 però calcolando dal punto ascolto poi c'è vabbè qui c'ho aria ma l'impianto sta messo tanto io non ce l'ho io 20 metri quadri no? e lui c'è l'ha e con quell'impiattino sonorizza tutta la perfezione no? ha paragonato c'è Mark Levinson altri diffusori e questo sfinferino qui li distrugge perché è così poi che vi posso dire vi ho fatto vedere quel filmato le TX35P diffusori a 3B solo quelle, solo quelle, se vi comprate solo quelle sono eccezionali il massimo se ci aggiungete il suo sub TX18SP quello che ho io io l'ho sentito questi diffusori da soli con due sub con loro sopra e poi ho sentito la configurazione due TX a terra che sono a torre a 3B e si possono si ambientano in qualsiasi tipo di sala dalla piccolissima alla piccolissima alla grandissima io per me non sono sprecati due sub uno va meglio poi specialmente come noi lo dovremmo utilizzare allora ve lo dico proprio spassionatamente spassionatamente un sistema formato da due torri e TX a 3B e 35P che costano 1.600 o 1.700 l'una col loro sub che costa 1.800 euro se voi lo portate in qualsiasi punto vendita nel negozio non c'è nessun impianto che possa stare dietro a una cosa del genere a un sistema che andremmo a spendere 3.000 e 2.000 6.000? 6.000 euro con 6.000 euro non vi starà dietro nessuno assolutamente è un sistema schiaccia sassi non avrete scordatevi i limiti quando state ascoltare una traccia che sentite che è lì piatto se voi volete godere un po' di più e tirate su e lì piatto comincia ad arrivare alla fine qui non ci sono limiti non ci sono limiti di ascolto da 2 watt fino a 1 kilowatt perché qui quando sono messi tutti insieme ci hanno a parte il DSP evolutissimo spettacolare ma sono potentissimi pertanto è il classico sistema che non ha problemi assolutamente i problemi che noi riscontriamo con tutti i sistemi ai fai qui non sono contemplati in questi sistemi non sono contemplati quelle cose critiche che noi potremmo sentire a partire dalla distorsione a partire che l'impiatto sta per arrivare non ci possiamo più divertire qui non esistono cioè se voi volete sfidare un sistema così perdete sicuramente perdete e vi dico guardate ve lo sottoscrivo un sistemino così tra virgolette 6.000 euro lo potete portare e confrontare con qualsiasi impianto che trovedete con qualsiasi tipo di amplificazione non gli sarà dietro nessuno faranno una figura barbina ai negozianti gli verrà l'ittero ve lo posso garantire se vogliamo confrontarlo con quello che ci hanno dentro a partire da sorgerti da 500 1.000 euro arriva a migliaia d'euro non ce n'è per nessuno 6.000 euro se questo sistemino piccolino che Giancarlo ha preso a 1.100 euro lui è felice come una Pasqua dice io 50 anni ci ho avuto tutto ho appena cosa ho appena altra c'è un problema il sistemino 1.100 euro li rompe figuriamoci se noi ci copriamo il sistema a tre vie come quello col sub tipo come c'ho io che cosa può succedere? pertanto signori 6.000 euro 6.000 euro li addormentate tutti quanti li ammutolite tutti quanti io vi ringrazio vi rilascio la mail santefelli gmail.com e osate osate come ha fatto Giancarlo 1.100 euro ma vai a dire qualcosa a Giancarlo 1.100 euro signori alla prossima un abbraccio a tutti grazie 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 grazie